l'epoca trovarò la paris ok venuti già in questo secondo episodio super frenetico allora dove è la mia batmobile? eccola qui ah tra l'altro ragazzi c'è anche la modalità combattimento che ora non me la fa fare però c'è anche la prima persona giusto confondo sempre coi comandi ce la faccio eh ok vuoi non darete niente a nessuno comunque c'è poi i tsunami lì dentro insomma ragazzi io ho giocato ai tutti i batman in livello difficile ho visto a te leo ho visto a te leo ho visto a te leo Signore, è papà, è qui, qui. Ma solo una viscela, che sta a cercare? Chi sarà lei? Grande cosa dei puliti. Vero, è Arley, Evie. Che cosa ci fai qui? Perché crei un Batman? Vero, non saluti? Dimmi. E se per caso non volesse, darò fuoco a ogni pianta di Gotham. C'è stata una riunione. Che riunioni non è? Erano tutti là. Dimmi. Due falcini. Anche la povera Arley. Lo sfaverebbe la serie di amica. Ti avremmo fatto fuori tutti insieme. E Gotham sarebbe stata nostra. Sul mio cadavere. Credo che gli abbia fatto quello. Gli ho detto che non ero interessata a patete cinciocchi e camionano. E quando mi sono svegliata, ero inchiusa in distanza. Sfortunatamente per lui, se non ero interessata a tutti. La natura vince sempre. Non imparerai mai. E anche tu non imparerai mai, Evie. C'è qualcosa che vince ancora di più della natura. Batman vince sempre. Questo. E se c'è una cosa fighissima, ragazzi. Vabbè, non so già. Posso telecomandare da Batmobile. Ditemi, sono una figata a distanza. Ecco la modalità attacco. Sì, mi sa che comunque, forse in questo Batman vada a uccidere proprio, sì. Perché, cioè, guarda. Eh, vorrei desiderare fuori i rucoli ruote laterali. E spari. Finissimo. Aspettiamo i carri. Eccoli. Questi raggi rossi sono i carri che ci puntano. Ah, io, lasciami prendere la mia. Oh. Ok, con un quadrato comunque posso fare così quando è carico. Ah, non me lo fa ancora fare. Ah, adesso lo potrei fare. Vabbè, c'ho tipo dei missili speciali quando c'ho la barra carica, quella verde. Come si tornava Batman? Non so come si torna Batman. Ah, giusto, è vero. Anche la prima volta non sapevo come si tornava. E non mi ero ricordato che dovevo parcheggiare. Questa, questa è una figata che puoi mettere i, tipo i prigionieri. Aggiudiamo la sfida. Giusto. Azzurro. 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 Oh ok, siamo in guerra. Ora mi sembra che prima dobbiamo fare un attimo un trattore dice i passeggeri Ecco questo qui che ti allena al combattimento E poi dobbiamo portare via la stazione di polizia Ok Vi consiglio di sparare direttamente alla parte blu Perché è sciotta Mi chiedo se io faccio così Ok niente Fail Ok Ok Insomma questa è una cavolata È tipo un addestramento Tra l'altro si possono distruggere fra di loro Pisa di aver failato qualcosa In realtà con questi sensi è molto facile Ok fatto Ok continuiamo Possiamo andare Giusto questo non è per frenare Ah no adesso c'è questa e poi posso andare Adesso ci sono un sacco di blindati Ho messo il tuo attacco Ho messo il tuo attacco Voglio che il tuo individuo ha commissariato Non siamo attrezzati per affrontare il tuo cielo a favore Cascato il microfono Cascato il microfono E mi continua Mi continua a cascare il cavo di microfono Ok 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 Comunque come vedete la bat mobile prende anche fuoco con troppi danni Ok Ok Comunque distribui la distruttibilità delle cose Neanche a me E io sono Batman Anch'io Comunque è veramente una cosa Un casino totale questo gioco Perché tipo è una roba apocalittica Perché scappolano tutti tranne i criminali Bravi Bravi Ok 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 Da mio padre Non dico chi è però però mi rimanono continuamente notifiche della gente che partecipa ai party prob siamo in stato di guerra e non abbiamo nemmeno l'equipaggiamento una preoccupazione l'unico ed è un uomo un anno tra l'altro è in tecnici tu che qui stanno parlando le bordeaux ecco siamo rimasti su la situazione abbiamo gli accidenti in ogni punto della città cash la città ecco ora io sono arrivato fino a qui ho scelto l'enigmista poi vediamo adesso abbiamo le ultime coordinate non sopravviveranno se lascia i suoi poi c'è questo un caso strano ritrovano un corpo